a classico ecco perché cosa volevano fuori la libertà vero aiuto dice dove una eccola ah no se vuoi tenerlo su è uguale vieni vieni principessa eh sì 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 e tu che carino che la segue mamma mia bellissima ahia chinotte veramente bella guarda ste code becky brava fa la zia becky ecco dove vai tutta di corsa tu la femminuccia tutta sprint hai visto che c'è un'altra femminuccia eh e allora chinotto no lui è cuscus chinotto è quello laggiù si attenta che lei per chiamare per chiamare le coccole dalle zampate che non ha capito che non si può fare che c'è amore dimmi che c'è amore sì 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 sì